In ogni angolo dell'Africa, sia nella giungla, nella savana, nei villaggi o sui fiumi, così come nei grattacieli delle nostre moderne città, il vento stesso porta la paura, una paura antica che ha molti nomi, magia nera, stregoneria, superstizioni, ritti, misteriosi delitti, sacrifici umani. Ma non solo in Africa, Andy, anche in Europa, non se ne parla, ma sono successi dei casi orrendi. Ma è gente malata, dei maniaci. Laggiù nel nostro paese esistono ancora alcune sette che ogni anno scelgono delle vittime a loro insaputa, con fatture terribili e pratiche demoniache le portano alla folia e alla morte. È una sfida alla morte, all'occulto, alle tenebre, e la vittima morirà con un antico sacrificio. Occorre tempo e pazienza per entrare in un cervello. È una prova di forza mentale dell'uomo contro la sua debolezza. Le ho fatto paura? Stavo solo scherzando, signorina Ackerman. Non vorrà crederci. Non ne facciamo più cose del genere.